Evoluzione sul comparto euro-mediterraneo per lunedì 15 gennaio 2024. Una vasta depressione a carattere freddo staziona sul comparto scandinavo ed in via verso sud masse di aria gelida che attraverseranno il Regno Unito, gettandosi poi sul comparto centro-orientale europeo e nord-balcanico. Tale aria gelida avrebbe dovuto scendere anche verso il Mediterraneo centrale, e quindi sul comparto italiano, ma la pressione zonale derivante da una depressione a dovest della Spagna sposterà la colata gelida verso Levante, riattivando il flusso mite zonale in area mediterranea, dove torneranno le piogge. Previsioni meteo in area italiana per lunedì 15 gennaio 2024. Nord. Molte nubi su tutte le zone, più compatte sul comparto ligure di Levante, dove si avranno delle deboli pioviggini. Locali nevicate da addossamento sui versanti esteri alpini centro-occidentali. Presenza di fitte nebbie in Valpadana che localmente persisteranno per tutta la giornata. Centro. Tese correnti occidentali alimentano marcata instabilità con precipitazioni a tratti intense e diffuse. La fenomenologia tenderà a concentrarsi lungo la fascia tirrenica e sui versanti occidentali appenninici, mentre altrove le precipitazioni saranno più deboli ed isolate. Generalmente asciutto lungo il litorale adriatico centrale, sud e isole. Molte nubi in area peninsulare con piogge sparse, a tratti intense sulla Campania, dove potrebbero svilupparsi anche dei temporali. Fenomeni in trasferimento a tratti sulla Sicilia dal tardo pomeriggio. Generalmente asciutto sulla Sardegna con schiarite serali. Temperature massime in aumento, maggiormente sensibile lungo la fascia tirrenica, al centro-sud e sulle isole. Valori ancora piuttosto bassi nelle valli del nord con nebbie persistenti. Minime in generale aumento su tutta la penisola con valori al di sopra delle medie. Ventilazione generalmente moderata dai quadranti occidentali con raffiche fino a forti in mare aperto, al centro-sud e sulle isole. Mari da mossi a molto mossi, specie in area tirrenica e sul comparto adriatico centro-meridionale. Tendenza in area italiana per martedì 16 gennaio 2024 e mercoledì 17 gennaio 2024. Generale miglioramento martedì al nord e sul comparto centrale con schiarite sui rilievi ed alto adriatico, mentre altrove insisteranno addensamenti di tipo basso o banchi di nebbia. Le nebbie risulteranno fitte e persistenti al nord anche per tutta la giornata. Ancora qualche piovasco sulle regioni meridionali e la Sicilia con fattibili temporali tra Calabria e nord-est siciliano, in attenuazione nella seconda parte della giornata. Dalla sera nuovo aumento delle nubi da ovest con piovigini sparse sui litorali medio-alto tirrenici. Nuovo impulso perturbato da mercoledì, che investirà il nord ed il comparto tirrenico portando piogge a tratti diffuse. Possibili temporali tra Liguria e Toscana. Dalla sera piogge anche sul versante Adriatico. Temperature stazionarie e venti tesi tra sud e sud-ovest. Grazie a tutti della vostra attenzione. Non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per ricevere le previsioni aggiornate.